Una consegna è sempre un momento di soddisfazione, è un obiettivo raggiunto. La prima nota è che, come diceva la cortese giornalista, il progetto è partito nel 2008, sinceramente qualche anno fa. L'attuale giunta ragiona in termini diversi. Noi vogliamo assolutamente che gli obiettivi vengano conseguiti in tempi molto, ma molto più brevi. Nel caso specifico c'è stato una serie di problemi, lo ricordo, scavi archeologici, di nuovo scavi archeologici, di nuovi scavi archeologici, poi c'è stato il Covid, problemi vari. Credo che la cosa più bella e importante per le famiglie che oggi riprendono o prendono possesso degli alloggi è l'assoluta qualità degli alloggi, frutto sicuramente di un progetto di altissimo livello. Siamo a livello A addirittura, quindi proprio non è facile di questi tempi, se non su immobili come questo, ricostrutti ex novo e con obiettivi di alto livello. Quindi consumo meno possibile, tutta una serie di vantaggi che avranno coloro che verranno ad abitare qui. Quindi è un esempio comunque per l'Umbria e di questo ne sono particolarmente soddisfatto.